Siamo a Bagaladi, presepe vivente 2015 e insieme a me il sindaco Santo Monocchio. Buonasera. Buonasera. Il presepe è stato rinviato giorni fa e oggi c'è la possibilità di vedere questo splendido spettacolo. Sì, uno spettacolo veramente diciamo anche emozionante perché ci sono i mestieri di un tempo che sono veramente riprodotti in maniera oserei dire professionale ma in modo molto naturale dai personaggi che noi abbiamo trovato molto numerosi quest'anno. Dunque abbiamo la possibilità di rivivere i vecchi mestieri dal fabbro all'artigiano all'alfalegname. Al falegname, ai tessitori, a chi... sì, li riviviamo tutti. Non so se lei ha fatto il percorso ma praticamente i vecchi mestieri sono riprodotti praticamente tutti. E anche... E anche la possibilità di assaggiare i sapori di Bagaladi. Questa è una nostra tradizione. Sa che a parte la serata che abbiamo fatto il 30 sapori d'inverno, questa è una comunità che offre ai visitatori come dire i suoi prodotti, i suoi assaggi perché è una comunità molto molto ospitale, molto calorosa che ama il forestiero. Con il presepe vivente c'è anche la possibilità di rivivere non solo le magiche atmosfere del paese di Bagaladi ma anche di poter visitare il borgo. Sì, certamente. Questa sera l'attrazione principale è il percorso del presepe però io spero che i visitatori che vengono dall'esterno non tralasceranno di andare a vedere il monumento del Gaggini che è qui nella nostra chiesa. Che è un monumento importante, un monumento che bisogna conoscere, visitare diciamo. È importante. Poi c'è anche Palazzo Misiane dove c'è una mostra fotografica abbastanza interessante. Dunque è una macchina organizzativa che dura da un bel po' di tempo per poter far sì che sia... che venga alla luce il presepe vivente. Una macchina che un pochino si era arrugginita nel tempo ma quest'anno pensiamo di averla rimessa veramente in esercizio. È una macchina che ha funzionato perfettamente come voi avete modo di osservare. La novità di quest'anno rispetto agli scorsi? Ma diciamo, non vorrei dire che questo è uno dei migliori presepi che noi abbiamo organizzato perché nella fase iniziale negli anni 90 abbiamo avuto dei presepi veramente eccezionali anche perché erano i primi. Certo, abbiamo dovuto sperimentare ma sono stati anche dei presepi molto partecipati anche dal pubblico. Però è un presepe che sì, diciamo per noi la novità non è una novità. È il fatto che abbiamo ritrovato tanti personaggi che erano venuti un po' a scemare, c'era meno entusiasmo. Perché come sapete abbiamo vissuto anche anni di commissariamento e si sa che la comunità quando ci sono i commissari in qualche maniera si sparpaglia. Mi potrebbe dire lei cosa c'entra la parte amministrativa con un presepe vivente? Beh, è chiaro che in una comunità piccola anche l'amministrazione fa la sua parte. È una partecipazione di tutti gli strati del Paese, quindi non solo dell'amministrazione ma anche dei cittadini, delle varie associazioni che uniti possono dar vita alla presepe ma in qualsiasi altro evento. Assolutamente sì, l'amministrazione chiaramente ha dato supporto ma ci sono i giovani del Gaggini, c'è la Proloco, c'è la cooperativa Avalon che hanno collaborato all'organizzazione di questo presepe. Ovviamente tutto ruota intorno alla comunità ecclesiale, mi sembra ovvio, quindi il nostro Don Giuseppe che è quello che ha coordinato le varie fasi di questo presepe ma noi abbiamo dato un buon sostegno. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, come avete visto abbiamo fatto un dicembre interessante qui a Bacalati per quanto riguarda le manifestazioni che servono a riunire la comunità. Ora abbiamo da fare una buona amministrazione per fare in modo che questo borgo continui a esistere e in qualche maniera trattenga i suoi giovani, quindi non solo manifestazioni ma anche buona amministrazione, speriamo. Bocca al lupo e complimenti, grazie. Grazie, grazie per i servizi che ci state riservando che ci consentono di essere e anche di dare in un periodo così difficile una testimonianza che anche nelle comunità piccole e interne ancora c'è possibilità di fare vivere bene le comunità, di fare economia, di trattenere la gente, insomma di lottare contro lo spopolamento che è il nemico principale di queste nostre realtà, soprattutto lo spopolamento dei giovani che vanno via. Grazie. Grazie a voi.